Trovato l'accordo sull'Imu, casse integrazione in deroga e esodati, il Premier Letta guarda con fiducia al futuro del Governo e fissa i prossimi obiettivi. Adesso ci concentriamo sulla riforma della legge elettorale a ottobre. Soddisfazione anche dal PDL perplessi sindacati, ma dal PD arrivano le parole del Vice Ministro dell'Economia Fassina a raffreddare il clima. A questo punto l'aumento dell'IVA a ottobre è irrimediabile, dice Fassina. E anche sulla decadenza di Berlusconi il clima sembra ora più disteso, il Premier Letta ribadisce che comunque non influirà sul futuro del Governo. Il Vice Alfano lancia un appello al PD, la decadenza non è un atto dovuto, ma una decisione su cui dovete riflettere. Il Cavaliere è fiducioso nel rinvio del voto in giunta, chiamata ad attendere il parere della consulta chiesto dall'ex Premier. Depositate questa mattina le motivazioni della Cassazione sulla condanna nel processo Mediaset. Slitta l'attacco in Siria, il Presidente Obama ribadisce la necessità di una risposta internazionale alla violazione del regime di Assad sull'utilizzo di armi chimiche. Ma non esclude un'azione singola degli Stati Uniti, un attacco limitato, la Siria non sarà un nuovo Iraq. Hollande ora frena, cerchiamo una soluzione politica, l'Iran minaccia di bruciare Israele. Intanto la Gran Bretagna schiera i suoi caccia e la Russia invia le sue navi nel Mediterraneo orientale. La tenuta dell'esecutivo sull'Imu convince anche Piazza Affari, che recupera lentamente terreno. Ma la buona notizia arriva soprattutto dall'asta dei bot con scadenza nel medio e lungo termine. La domanda è debole, ma il tesoro colloca tutti i 6 miliardi offerti. In positivo anche gli altri mercati europei, nel pomeriggio attese per i dati americani di PIL e disoccupazione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Maria Angela Granomelli, uccisa il 3 agosto nella sua gioielleria di Saronno, un uomo di 32 anni, Alex Maggio, ha confessato ai carabinieri. Volevo rapinarla, poi ho perso la testa. Sarebbe stato individuato grazie alla testimonianza di un uomo che lo aveva riconosciuto nei filmati sul killer. 48 ore fa era stata messa una taglia da 50 mila euro dai commercianti di Saronno. Buongiorno, buongiorno, benvenuti al telegiornale E della Sette. Oggi in primo piano c'è la politica, ci sono gli effetti della decisione ieri in consiglio dei ministri di abolire per tutti l'Imu. La tassa sulla prima casa, oggetto negli ultimi mesi di polemiche e discussioni all'interno della maggioranza, all'interno del governo delle larghe intese. Provvedimenti sono stati presi anche per i cosiddetti esodati e per il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. Ma i sindacati sono perplessi, non sono soddisfatti pienamente e sono anche critici sull'abolizione dell'Imu. L'abolizione dell'Imu sulla prima casa ha come primo immediato effetto quello di allungare la vita al governo di Enrico Letta, pericolosamente in bilico proprio sulla tassazione degli immobili. La faticosa quadratura del cerchio trovata in extremis ieri dall'esecutivo porta con sé l'attesa schiarita nell'orizzonte temporale del Premier che afferma ora di poter guardare con molta maggiore fiducia al futuro. Letta, che a questo punto dice di non temere altri scossoni, Stamani ha rivendicato il merito dei provvedimenti approvati in Consiglio dei Ministri dal rifinanziamento della cassa integrazione in deroga agli esodati. Misure importanti, ribadisce, da cui l'Italia potrà trovare giovamento. Al Presidente del Consiglio non interessa il chiacchiericcio, come lo definisce lui stesso, sulla longevità del governo e asserisce anche con nettezza di non temere influenze dalle vicende giudiziarie che riguardano Silvio Berlusconi. Letta insomma insiste nel tenere separati i due piani, quello appunto dell'azione di governo improntata sulla concretezza e quello dei destini del Cavaliere in giunta per le elezioni. Io ho sempre detto che non temevo su questo tema e non temo a maggior ragione adesso che ci sia un'influenza sulla vita del governo per vicende che hanno a che vedere con sentenze che riguardano vicende giudiziarie. Nel futuro prossimo il Premier mette in calendario altri importanti provvedimenti basati su riforme strutturali per rilanciare la crescita. Il superamento appunto dell'Imu con la nuova service tax, ma anche la modifica della legge elettorale tra le priorità d'autunno. L'abolizione della tassa sulla prima casa, mantra del PDL, lascia scettici i sindacati e divide la politica. Il partito di via dell'umiltà ovviamente esulta con Berlusconi che parla di patti rispettati. Soddisfatto anche il Vice Premier Alfano, regista con le colombe di governo della mediazione. È stato un successo straordinario per milioni di italiani che dovevano pagare una tassa e adesso non la pagheranno più, possono adesso consumare di più. Era il fiore all'occhiello della campagna elettorale del PDL, ricorda Cicchitto. Il capogruppo alla Camera Brunetta rivendica abolita l'Imu senza mettere le mani nelle tasche degli italiani. Per il segretario del PD Epifani quella trovata è una soluzione equilibrata. Non usa toni trionfalistici invece il Vice Ministro dell'Economia Fassina. È un buon compromesso che contiene parti che il PD giudica sbagliate e quindi avverte l'addio all'Imu renderà irrevocabile l'aumento dell'IVA dal 1 ottobre. Critico anche l'ex Premier Mario Monti che parla chiaramente di resa da parte di Enrico Letta sull'Imu. Spero che il governo duri poi aggiunge ma che abbia spina dorsale. La CGL guarda il bicchiere mezzo vuoto. Insufficienti le decisioni sulla cassa integrazione in deroghe sugli esodati. Dalla Cisla Raffaele Bonanni ironizza. L'Imu è una partita di giro. Togliamo la tassa nazionale e la mettiamo localmente. In allarme anche i sindacati degli inquilini. Le misure prese pesano sugli affittuari e si tradurranno in uno tsunami degli sfratti. E dal Consiglio dei Ministri di ieri naturalmente è uscita molto soddisfatta tutta la compagine del PDL che dell'abolizione dell'Imu aveva fatto un cavallo di battaglia. Ma tutta aperta resta ancora la questione di Silvio Berlusconi in vista del voto della Giunta per la decadenza o meno dell'ex premier da senatore. La partita si gioca ancora in punto di diritto. Berlusconi chiede alla Giunta per l'immunità del Senato di rivolgersi alla consulta perché si pronunci sulla costituzionalità della legge Severino sull'incandidabilità che se applicata nei suoi confronti dopo la condanna definitiva per frode fiscale nel processo Mediaset determinerebbe la sua decadenza da senatore. Il Cavaliere ieri ha depositato in giunta una lettera a sua firma che accompagna sei pareri proveritate che il leader del PDL ha chiesto ad alcuni giuristi. La legge Severino non può applicarsi a Berlusconi e la linea perché approvata ben dopo i fatti adebitati all'ex premier e come tutte le leggi di rilevanza penale non può essere retroattiva. Inoltre la sanzione dell'incandidabilità e della decadenza sarebbe sproporzionata inciderebbe sulle libertà politiche al di là della condanna tanto da autorizzare non solo il ricorso alla consulta per difetto di costituzionalità ma anche alla Corte Europea di Strasburgo chiamata a vigilare sul rispetto della Convenzione sui diritti dell'uomo. Berlusconi punta la sospensione della pronuncia della Giunta fino al verdetto della Corte Costituzionale ipotesi che nel PD violante aveva vallato ma che ha trovato il muro del gruppo dirigente democratico. Più probabile che si arrivi a uno slittamento del voto della Giunta solo di qualche settimana senza il rinvio alla consulta per un supplemento di istruttoria. Un rinvio breve che darebbe comunque tempo al Cavaliere per esplorare soluzioni alternative dall'atto di clemenza al quale però il PD è nettamente contrario alla commutazione della pena sino alle dimissioni da Palazzo Madama Bogest che esegnerebbe la strada del Governo. Nel PD, al di là della linea ufficiale dell'intransigenza legalitaria il dibattito carsico sulla soluzione politica per la libertà di Berlusconi continua. Si attendono segnali del Quirinale confortato dal risultato incassato da Letta nella vicenda dell'Imu fino a ieri possibile punto di rottura delle larghe intese. Così il 9 settembre la Giunta, con ogni probabilità, non prenderà decisioni. Il PD non metta a fretta o a rottura tuona il PDL cicchitto basta pressioni replica il capogruppo democratico al Senato Zanda non vogliamo accelerazioni immotivate ma neppure dilazioni. E dal Governo il Vicepremiere Alfano lancia un appello all'alleato facciamo un invito al PD senza protervi e senza arroganza riflettete e approfondite. Per Berlusconi poi c'è anche la chance di un altro ricorso alla Corte di Strasburgo quello contro la sentenza della Cassazione le cui motivazioni sono state depositate oggi. E allora vediamo adesso nel dettaglio come si è potuto abolire l'IVA soprattutto con quali coperture. Il Vice Ministro dell'Economia Fassina parla di un inevitabile aumento ulteriore dell'IVA quel che è certo è che a dicembre ci sarà una nuova tassa che si chiama Service Tax e a chiedersi come l'Italia coprirà l'abolizione dell'IMU c'è anche l'Europa. Ma i soldi dove li prendete? La domanda del Commissario Europeo agli affari economici Olli Rennes sull'abolizione dell'IMU è lecita, tempestiva e allo stesso tempo inquietante. Da quest'anno infatti la Commissione Europea ha il potere di esprimere un parere preventivo sulla finanziaria che può nei fatti obbligarci a cambiarla. Tradotto, se a ottobre il Governo non tirerà dal cilindro magico i 2 miliardi per coprire la seconda rata dell'IMU ci penserà l'Europa a farlo. I toni come si usa sono cordiali scrive Ren nella nota accolgo con favore le forti rassicurazioni del primo ministro Letta sulla determinazione dell'Italia di rispettare i suoi impegni di bilancio per il 2013. Ma, e qui si va al sodo, attendiamo naturalmente di vedere i dettagli di questi piani. Come risultava chiaro da ieri la copertura della prima rata dell'IMU è in tasca. La rata di giugno sparisce senza riserve su tutte le prime case a eccezioni di ville, di pregio e castelli. I 2,4 miliardi che servono arriveranno dal maggior gettito IVA sui rimborsi della pubblica amministrazione e le imprese dalla sanzione pendente al settore dei giochi e dai tagli alle spese dei ministeri. Così come coperte sono le altre misure a sostegno dell'edilizia presenti nel decreto. Le imprese ottengono la possibilità di dedurre dall'IRAP la quota IMU sui capannoni. La somma rientra nelle casse dello Stato da un'aliquota più alta sulle case sfitte. Per le giovani coppie il decreto apre la possibilità di ottenere un mutuo in banca una concessione che arriva dalla Cassa Depositi e Prestiti e per far ripartire il mercato degli affitti viene abbassata l'aliquota della cedolare secca a carico dei proprietari che passa dal 19 al 15%. Per le coperture necessarie a sostituire l'IMU dal 2014 ci pensa la Service Tax. Quando verrà scritta e pubblicata si scoprirà, e solo allora, se l'IMU è davvero scomparsa oppure è solo cambiato nome e che tipo di proporzione ci sarà tra i proprietari più o meno ricchi e tra le famiglie più o meno numerose. Ma il problema sarà dei comuni che dovranno fare i conti con i propri bilanci e i propri elettori. La seconda rata è cosa tutta da risolvere invece. Un giallo di 2 miliardi di euro iniziato prima dell'estate e che nei numeri non è affatto risolto. Sull'eliminazione della rata infatti da parte del governo c'è solo un impegno politico. Non privo di valore, si intende, e anche in senso economico. Infatti la data in cui sarà sciolto il nodo è il 15 ottobre quando sarà varato il disegno di legge di stabilità e si saprà a chi toccherà pagare il conto. Una data che coincide è con l'ultima finestra utile nel 2013 per andare a elezioni. Se l'impegno è del governo, cade il governo, cade anche l'impegno. Ecco, adesso c'è il fronte siriano perché si complica la strada per Barack Obama e David Cameron decisi ad intervenire contro il regime di Bashar al-Assad ritenuto colpevole di avere oltrepassato la linea rossa indicata da Obama ovvero l'uso delle armi chimiche contro i civili. Il nodo infatti resta quello delle Nazioni Unite che neanche Stati Uniti e Gran Bretagna possono permettersi di bypassare con leggerezza. Obama infatti ribadisce questa mattina che nulla è ancora stato deciso. Non abbiamo ancora preso una decisione la discussione continua ma vogliamo che il regime di Assad comprenda che usare armi chimiche contro il proprio popolo non infrange solo le norme internazionali dobbiamo evitare in ogni modo che possano essere usate contro di noi e Barack Obama a spostare le lancette dell'orologio della crisi siriana un attacco probabilmente limitato ci sarà ma non in queste ore come molti pensavano. La Casa Bianca infatti vuole avere l'appoggio della comunità internazionale prima di dare il via libera all'intervento così come il premier britannico Cameron e la cancelliera tedesca Merkel che comunque ritengono imprescindibile una reazione internazionale. Anche il presidente francese Hollande che oggi a Parigi ha ricevuto il leader della coalizione nazionale siriana e che fin dall'inizio aveva sostenuto la necessità di un intervento militare oggi ammorbidisce i toni chiedendo alla comunità internazionale di fare tutto il possibile per trovare una soluzione politica. Dalle Nazioni Unite il segretario Ban Ki-moon intanto annuncia che gli ispettori incaricati di raccogliere le prove e le testimonianze sull'utilizzo delle armi chimiche in Siria lasceranno il paese nelle prossime ore. Il gruppo di ispettori continuerà l'attività di indagine fino a domani e lasceranno la Siria sabato mattina e riferiranno a me ha spiegato Ban Ki-moon. Una data quella di sabato che potrebbe segnare una tappa importante nel calendario dell'avvio per le operazioni militari che comunque dovrà tenere conto che il prossimo 5 settembre a San Pietroburgo Putin ed Obama i cui rapporti dopo l'affera Snowden si sono freddati discuteranno della crisi siriana quando siederanno al tavolo del G20. In queste ore torna a farsi sentire Bashar al-Assad usciremo vincitori da questo storico scontro annuncia un messaggio rivolto soprattutto ai suoi comandanti militari sempre più tentati dall'idea di una defezione mentre l'Iran continua a lanciare minacce feroci in caso di un attacco in Siria proclama il vice capo di Stato Maggiore di Teheran Israele brucerà. La macchina delle operazioni belliche intanto è già in movimento una nave lancia missili statunitense ha attraversato il canale di Suez ha mollato gli ormeggi dal porto di Tolone anche una fregata francese che in queste ore sta facendo rotta verso le coste siriane sono invece atterrati nella base di Cipro quattro caccia della RAF britannica mentre la Russia ha ordinato a due navi di fare rotta verso il Mediterraneo. La drammatica situazione in Medio Oriente preoccupa anche il Vaticano il pontefice questa mattina ha ricevuto in udienza i reali di Giordania il re Abdullah e la regina Arania e con loro è tornato a parlare appunto delle lotte intestine in Medio Oriente con particolare riferimento alla ripresa dei negoziati tra israeliani e palestinesi e anche della Siria ha parlato Papa Francesco. Di grande cautela come lo sappiamo è la posizione dell'Italia in merito ad un possibile intervento anglo-americano sul fronte siriano i contatti tra Palazzo Chigi e l'amministrazione Obama sono comunque continui e costanti ha detto il ministro Bonino anche se la posizione dell'Italia sappiamo è stata netta sin dall'inizio ovvero l'indispensabile avallo delle Nazioni Unite è per l'Italia una condizione per cominciare anche a discutere di un'eventuale partecipazione a questo intervento vediamo la condanna dell'Italia ai crimini del regime di Assad è ferma ma senza l'ONU non parteciperemo a nessuna azione militare via radio Enrico Letta ribadisce la linea del governo sull'emergenza siria la comunità internazionale deve muoversi dentro l'architettura di legalità delle Nazioni Unite dice una linea largamente condivisa dalle forze politiche anche di opposizione è confermata ieri a Palazzo Chigi da un vertice del Premier con i ministri degli esteri e della difesa il sottosegretario con la delega ai servizi Minniti e il vicepremier Alfano in cui si ribadiva sostegno politico alle ispezioni dell'ONU e la richiesta di rimandare al Tribunale internazionale dell'AIA il compito di sanzionare l'uso delle armi chimiche il governo in generale la politica italiana si muovono con circospezione con prudenza poco propensi a seguire le orme di Gran Bretagna e soprattutto del presidente francese Hollande che pure oggi esprimeva preferenze per soluzioni politiche le perplessità nell'intervista di oggi alla CNN attenti a non ripetere lo stesso errore della guerra in Iraq quando l'intervento fu deciso sulla base di selezionati dati di intelligence ha detto all'intervistatrice Cristiana Manpur le intenzioni della coalizione dei volenterosi ha aggiunto non sono chiare si vuole punire Assad o porre fine al conflitto il governo ha comunque promesso che qualunque decisione su un eventuale coinvolgimento italiano anche per il solo utilizzo delle basi aeree sarà presa dopo un dibattito parlamentare esiste poi ha detto ieri ministro della difesa Mario Mauro anche un problema di sostenibilità di un'eventuale partecipazione delle nostre forze armate impegnate in altri teatri di guerra quello che desta più preoccupazione nel governo in Parlamento e in Libano dove dal 2006 sono schierati oltre 1000 soldati italiani per una missione Unifil che potrebbe rivelarsi sempre più rischiosa in caso di attacco si temono infatti le reazioni di Esbollah adesso vediamo come vanno le borse perché quella di oggi per i mercati è stata una giornata più serena con il segno più su Milano e anche lo spread torna a scendere questa è sempre una buona notizia Cambiano gli umori sulle borse europee a ridare slancio dopo le paure della crisi siriana sono i dati macroeconomici che arrivano da tutta l'Europa guida la ripresa Milano dopo l'asta di bot 5-10 anni era il banco di prova atteso per sapere quanto il tesoro avrebbe potuto contare sul rinnovo del debito di 122 miliardi entro dicembre e il test sembra superato collocati 2 miliardi e mezzo di bot a 10 anni con rendimenti stabili e 3 miliardi e mezzo a 5 anni con rendimenti leggermente in aumento e lo spread in mattinata scende sotto i 250 punti stabilità frutto dell'accordo raggiunto dal governo sull'Imu ma anche dei dati sulla fiducia di imprese e consumatori diffusi oggi dall'Istat la fiducia dei consumatori sia per quanto riguarda la condizione personale che quella economica nel mese di agosto ha raggiunto il massimo degli ultimi due anni collocandosi a 98,3 bene anche quella delle imprese soprattutto nel settore commerciale manifatturiero che ha raggiunto il picco d'agosto dell'anno scorso e l'ottimismo pervade sia i giudizi che le previsioni fino a controbilanciare i dati diffusi ieri sul calo delle vendite certo non mancano i sé e i ma soprattutto quelli legati al lavoro peggiorano infatti le attese sulla disoccupazione così come le valutazioni sulla situazione economica delle famiglie quanto al resto d'Europa migliora anche la fiducia delle imprese francesi e resta stabile la disoccupazione in Germania cala invece il PIL in Spagna ma spostare le borse potranno essere i dati oltreoceano attesi nel pomeriggio su PIL e disoccupazione da questi dipenderanno le future mosse della Federa Reserve sulla riduzione dell'iniezione mensile di liquidità e di conseguenza gli umori dei mercati finanziari mondiali l'ex deputato Amedeo Mattacena è stato arrestato a Dubai l'ex parlamentare di Forza Italia si era reso irreperibile a giugno subito dopo la sentenza della Corte di Cassazione che lo aveva condannato definitivamente a 5 anni e 4 mesi di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa ma continuiamo continuiamo con la cronaca perché ci sono sempre maggiori sbarchi sulle coste meridionali del nostro paese e l'emergenza in Siria ha aumentato questo flusso il mare grosso tra canale di Sicilia e dintorni fa meno paura della guerra i numeri dei viaggi della disperazione non si abbassano nonostante le proibitive condizioni meteomarine degli ultimi due giorni sono già più di 2000 i siriani sbarcati in Sicilia dall'inizio della guerra civile l'ultimo arrivo risale a tre ore fa nel porto di Siracusa due motovedette della guardia costiera hanno sbarcato 76 persone 15 siriani e 61 egiziani intercettati 80 miglia a sud-est di Siracusa nella tarda serata di ieri sono stati loro stessi a lanciare il Mayday lo scafo in legno lungo 25 metri era alla deriva per una varia al motore anche tre mercantili hanno fatto rotta sul barcone in difficoltà per le onde altissime ed ora dopo sette giorni di angoscia i profughi sono a terra due donne tre bambini e decini di adolescenti tutti maschi forse appositamente allontanati dalle famiglie per evitare che finiscano in strada a combattere dall'una o dall'altra parte sempre a Siracusa ieri erano stati portati altri 350 siriani compresa una neonata di quattro giorni partorita a bordo clima teso anche nel centro di identificazione ed espulsione di gradisca di sonzo vicino Gorizia dove a distanza di qualche giorno va in scena da ieri sera una nuova protesta sul tetto gli immigrati salgono e scendono di continuo per chiedere identificazioni più rapide e trasferimenti in CIE con migliori condizioni di vita due di loro appesi ad una rete di contenimento sono caduti li ha soccorsi il 118 che li ha ricoverati in ospedale ma dopo una visita che ha riscontrato traumi vari i due sono stati riportati nel centro è stato arrestato l'uomo che lo scorso 3 agosto ha ucciso nel centro di Saronno la titolare di una gioielleria decisive le riprese delle telecamere per identificare l'assassino che ha confessato a riconoscerlo dopo che erano stati diffusi dopo che era stata diffusa la sua immagine è stato un cittadino che ha immediatamente avvertito i carabinieri italiano di origini pugliesi 32 anni disoccupato con piccoli precedenti penali da giovane era stato ausiliare dei carabinieri ecco chi è l'uomo che ha volto scoperta ha ucciso sotto l'occhio delle telecamere di sorveglianza Maria Angela Granomelli nella sua gioielleria in pieno centro a Saronno il 3 agosto Alex Mangio fermato ieri sera ha confessato durante la notte non voleva uccidere ha raccontato i carabinieri l'uomo aveva scelto quel negozio sotto i portici per una rapina improvvisata al rifiuto della donna di dargli gioielli il raptus un massacro a calci e pugni e un colpo fatale alla testa con un portagioie poi la fuga con un magro bottino il video con il suo volto era stato diffuso dagli inquirenti subito dopo l'omicidio ma l'uomo sembrava scomparso del nulla lo ha riconosciuto qualche giorno fa per strada un abitante di Bollate paese alle porte di Milano dove l'assassino che vive a Carono Pertusella vicino a Varese a casa di amici si era rifugiato dalla compagna ma quella non è stata l'unica segnalazione i carabinieri sono arrivati a lui anche attraverso alcune intercettazioni telefoniche noi abbiamo raccolto sin dall'inizio varie informazioni sia pervenute tramite i nostri comandi di stazione sia tramite il numero verde attivato dalla procura di Bustarsizio e vagliando tutte le informazioni fornite abbiamo individuato il soggetto che poi alla fine si è confermato essere l'autore del reato dopo la confessione è stato portato nel carcere di Bustarsizio le sue impronte digitali sono le stesse trovate nel negozio l'accusa è omicidio volontario e rapina a Saronno che in questo mese ha vissuto nell'incubo di un assassino in libertà solo due giorni fa aveva fatto discutere l'iniziativa di un imprenditore di compro oro che aveva messo in palio una taglia da 50.000 euro sulla testa del killer facendo viaggiare il suo volto per la città stampato su manifesti pubblicitari affissi a camion il comune ieri ne aveva vietato la circolazione i carabinieri ecco come vi abbiamo detto nel corso del telegiornale è stata depositata questa mattina la sentenza della Cassazione le motivazioni della sentenza della Cassazione sul processo Mediaset cominciano ad arrivare ad essere noti i primi passaggi allora ve ne leggo uno Silvio Berlusconi è scritto fu ideatore del meccanismo del giro dei diritti che a distanza di anni continuava a produrre effetti illeciti di riduzione fiscale per le aziende a lui facenti capo in vario modo adesso adesso il calcio perché anche il Milan è entrato nei gironi di Champions e oggi pomeriggio a Monte Carlo conoscerà il suo futuro insieme alla Juventus e a Napoli c'è modo e modo di esternare le proprie sensazioni a caldo di scaricare la rabbia accumulata Boateng sceglie la formula passionale con il grido I love you alla fidanzata nella notte dei due golpi santissimi per la qualificazione e il Boa non era nemmeno sicuro di giocare completamente opposto il registro emotivo di Massimiliano Allegri che subito dopo la partita si sfoga con chi alla vigilia aveva parlato di ultima spiaggia per la sua panchina ho detto che stasera mi potete prendere una serata e potete riflettere e magari domattina dimettermi così almeno si è creato un po' di movimento invece di sempre queste altre cose perché a me la vita piatta non mi piace parole bollenti che sul momento prendono tutti in contropiede creano l'inevitabile imbarazzo ma poi le dimissioni vengono catalogate come una battuta con la benedizione di Adriano Galliani nella provocazione del tecnico c'era l'insofferenza per sentirsi troppo spesso arrostito sulla graticola e ancora di più stavolta dopo l'ennesima falsa partenza in campionato ma a differenza di Verona i suoi ragazzotti così li aveva apostrofati non lo hanno tradito con il PSV Eindhoven abbandonando quella versione sbiadita che aveva alimentato tante paure in vista del dentro o fuori dalla Champions il risultato di 3 a 0 potrebbe far pensare alla gara perfetta e così non è stato gli olandesi hanno gestito il possesso palla e hanno cercato le soluzioni da lontano sperando magari che Abbiati avesse un altro incidente di percorso come all'andata e invece il portiere è stato impeccabile ha tamponato quelle amnesie difensive di cui il Milan non riesce a liberarsi evitando quel pareggio che avrebbe generato ansia la difesa è sempre sul banco degli imputati i tifosi vorrebbero un rinforzo in quel settore e ieri sera hanno espresso il loro dissenso per l'operazione Matri che il Milan sta per chiudere dovendo aspettare a lungo l'infortunato Pazzini le punte contro gli olandesi hanno fatto in pieno il loro dovere e il Sharawi rigenerato è anche molto sfortunato in occasione della traversa con cui ha dato un saggio della sua classe Balotelli ha realizzato il suo primo gol milanista in Europa e ha regalato assist a nove carati per i compagni il Milan ha trovato casa nei gironi di Champions e oggi pomeriggio a Monte Carlo conoscerà il suo futuro insieme a Juventus e Napoli nessuna italiana in prima fascia e Napoli in quarta altissimo il rischio di un girone di ferro intanto stasera in Europa League la Fiorentina parte dal successo dell'andata con il Grasshopper mentre ci vuole un'impresa dell'Udinese per ribaltare in trasferta il 3-1 subito dallo Slovan Liberec è il momento di una pausa tra poco a tutti